Ed eccoci qua, lunedì post Napoli-Juventus vinta 2-1 dai partenopei dalla squadra di Calzona Diciamo che è stata una partita ricca di emozioni, ci sono state occasioni da ambo le parti però alla fine l'ha spuntata la squadra appunto partenopea vincendo con un gol di Raspadori su un rigore sbagliato da Ozyman sulla respinta di Chesney si è avventato Raspadori che l'ha buttata sotto al set per la gioia dei napoletani invece per la depressione degli juventini Ragazzi, oggi ho letto alcune notizie sui siti web, sulle varie applicazioni e mi è risaltata agli occhi quella di Massimo Mauro che adesso vi andrò a leggere le sue testuali parole mi ha lasciato un pochettino di stucco e voglio il vostro commento qua sotto, cosa ne pensate voi? Tifosi del Napoli, tifosi della Juve ma anche tifosi di altre squadre come me che sono della Roma però intanto fatevi salutare e ringraziare per i like, per i commenti, per le iscrizioni ragazzi stiamo arrivando quasi a 10.000 iscritti un risultato che io proprio non me lo immaginavo assolutamente da quando ho cominciato a postare video sul mio canale YouTube incredibile ragazzi, incredibile evidentemente la nostra amicizia, la nostra simpatia è reciproca tanto da far cliccare iscriviti a molte persone grazie ancora ragazzi ma andiamo alle parole di Massimo Mauro opinionista Mediaset che ai microfoni di Pressing ha citato, ha detto le testuali parole che vi andrò a leggere adesso scusatemi ragazzi è lunedì, sono un po' rimbambito dopo una giornata come ieri che ho mangiato, ho bevuto perché c'era il compleanno del figlio di un mio amico che faceva 18 anni leggiamo la notizia che forse è meglio la Juventus ha creato tante palle da gol Vlaovic è sfortunato e impreciso anche la difesa della Juve non è stata perfetta ha affermato il doppio ex del big match di fuori grotta nel complesso ha aggiunto Mauro è stata una bella partita mi è sembrata una buonissima partita è quello che ho detto anche io con due squadre che non venivano da un buon periodo a me è piaciuto tanto Vlaovic se hai tre occasioni da gol significa che sei dentro alla partita però voglio aggiungere anche io sarei magnate tutte e tre e quindi non so quanto è stato dentro alla partita perché non ha cioè vabbè comunque sentiamo Mauro che dice quando mai abbiamo visto un primo tempo così bello è vero la partita è stata abbastanza bella da vedere su Quara si sono un po' confusi tutti deve essere lui deve avere la linea di fallo laterale alle spalle deve fare tutta la fascia ed è determinante la squadra però deve cercare le distanze e non sono ancora quelle buone la difesa ha paura di alzarsi vicino ai centrocampisti se vogliamo dirla tutta se vogliamo dirla tutta la Juve ha perso sul rigore che ti arrabbi se te lo fischiano contro ha concluso io non lo so ragazzi magari ho visto male io ma il rigore mi sembrava proprio solare netto chi è? nonce è entrato col piede a martello sulla caviglia di di Osimene che rischiava pure di fargli male tanto male quindi in presa diretta secondo me era rigore è stato è andato anche al bar a guardarlo l'arbitro e quindi ha potuto vederlo a replay alla moviola e ha visto che sicuramente era fallo da rigore Marelli in diretta ha detto subito che era rigore secondo lui io non lo so che intendeva Massimo Mauro dire queste frasi perché se te lo fischiano contro ti arrabbi ma perché? per quale motivo? perché era all'ultimo minuto? ma non lo so non si è spiegato bene magari eh ho travisato io eh però lascia intendere che il fallo non ci potesse essere perché dicendo così se te lo fischiano ti arrabbi ti arrabbi perché? qualsiasi rigore ti arrabbi se te lo fischiano contro nel caso specifico fa intendere che secondo te non c'era questo io dico magari scrivetemelo scrivetemelo qua sotto voi cosa intendeva Massimo Mauro perché io non l'ho capito sinceramente per me era più che sicuro questo rigore tanto meglio andato l'arbitro è andato a vederlo al Vare perciò meglio di così io non lo so secondo me se Massimo Mauro dice che non era rigore secondo lui fa un autogol clamoroso autogol clamoroso deve ritornare sui suoi passi anzi fare un passo indietro due passi indietro era rigore ineccepibile poi diciamo che è stato anche sbagliato da Osimène e Raspatori è stato lesto a buttarla dentro però se vogliamo parlare della partita in sé per sé è vero che la Juventus ha avuto delle occasioni dobbiamo essere onesti Vlaovic a più riprese si è mangiato un gol due gol abbastanza clamorosi no? però diciamo che Napoli alla fine è stato non è stato diciamo a guardarla la partita ha avuto occasioni sicuramente perciò dire queste frasi secondo me lasciano il tempo che trovano è stata una bella partita giocata a viso aperto non speculando sul risultato da tutte e due le formazioni diciamo che anche la Juve voleva vincerla però alla fine l'organizzazione di gioco la voglia la tempra la grinta dei partenopei e soprattutto per la cura Calzona che da quando è arrivato lui in Napoli non ha più perso se non sbaglio diciamo che l'unico risultato negativo è stato quello col Cagliari che ha pareggiato all'ultimo secondo per un errore matornale di Juan Jesus altrimenti le ha vinte quasi tutte col Barcellona è normale che puoi pareggiare e adesso se la andranno a giocare in Spagna quindi Massimo Mauro non so per quale motivo abbia detto queste frasi magari più tardi uscirà qualche articolo che magari entrerà nello specifico e ci farà capire per quale motivo ha detto queste frasi per un rigore che a detta di tutti era solare e tanto è vero che Osimène a momenti ci lasciava una caviglia ragazzi commentate questo video fatemi sapere cosa ne pensate sempre con tranquillità senza brutte parole ragazzi sono sempre chiacchiere da bar che a me piace fare con voi quindi commentatelo ragazzi voglio sapere la vostra come sempre lasciate un like a questo video per supportarlo ringrazio a chi mi è venuto a seguire anche su Instagram che mi ha lasciato un saluto in direct in privato tutti i vostri messaggi li leggerò i vostri commenti li leggerò nel corso della giornata perché adesso vado a lavorare a faticare come dicono a Napoli e quindi vi auguro una buona giornata anche se il tempo è brutto ho tutto il parabrezza bagnato della macchina però la pioggia fa bene ai bacini idrici che sono senza acqua giusto o no ragazzi vi saluto lasciate un like iscrivetevi un bacio a tutti da Enrico Caffarelli grazie grazie